Buongiorno, bentrovati alla prima edizione del Tg6 che apriamo parlando di trasporti perché il presidente della regione Luciano D'Alfonso annuncia l'avvio di lavori per potenziare l'aeroporto internazionale d'Abruzzo di Pescara. Si tratta di interventi di ampliamento strutturale da una parte e di messa in sicurezza delle piste dall'altro. Sul caso Ryanair invece il presidente ha annunciato il proseguimento delle trattative con il colosso dei voli low cost per evitare il taglio dei collegamenti da Pescara. Francesca Romanatesti. La notizia è quella di un intervento organico di rigenerazione, così la definisce il presidente d'Alfonso. I lavori di adeguamento e messa in sicurezza della land site dell'air site dell'aeroporto internazionale d'Abruzzo, compreso un ampliamento dell'area commerciale e il passaggio da 3 a 5 gate. Lavori che verranno ultimati entro il 2016. Notizia che arriva ad una settimana esatta dall'annuncio di Ryanair di abbandonare la base di Pescara. Noi qui stiamo investendo 9 milioni di euro per la messa in sicurezza, per l'efficientamento, per il rinnovamento strutturale di questo sedime aeroportuale. Questo per renderlo anche bersaglio di investimenti ulteriori, di vettori che vogliono garantire ulteriore connettività all'Abruzzo, verso l'Italia e verso il mondo. Noi ci tenevamo, abbiamo rispettato il cronoprogramma, al 31 di dicembre avevamo tutti gli obblighi giuridicamente vincolanti. Sono anche contento per le imprese e i risultati aggiudicatari, poiché hanno la forza di assumere anche impegni immorali verso l'aeroporto d'Abruzzo, a favore dell'Abruzzo nei confronti del mondo. Sono convinto che presto cominceranno le tute degli operai a sporcarsi di cemento per fare le opere che occorrono a questa infrastruttura aeroportuale. L'Abruzzo può rinunciare a Ryanair? Assolutamente no, ci lavoriamo nel rispetto delle regole e delle leggi, sapendo che ci sono tre vincoli, il vincolo di bilancio della Regione Abruzzo, il vincolo del quadro normativo nazionale e quello del quadro normativo europeo. Io dopo domani parlo col Ministro del Rio anche di questo problema, di una revisione della normativa in questa direzione. Dobbiamo avere agibilità per evitare di avere guai e di produrre connettività. C'è una strada per confermare la connessione aeroportuale con il mondo senza che questo produca ferite alla rilettura postuma fra due tre anni, come purtroppo è accaduto in qualche sedime aeroportuale italiano. Parliamo ora di ambiente del giro di vite sugli scarichi abusivi del fiume Pescara. Il Presidente della Regione D'Alfonso ha infatti convocato i sindaci dei comuni che vengono attraversati dal fiume Pescara e ha lanciato l'idea di ispettori nei cantieri di efficientamento dei depuratori ACA. Scarichi abusivi nel fiume Pescara in diminuzione rispetto al 1989, infatti sono 48 gli scarichi nel fiume Pescara mappati dall'Università d'Annunzio con uno studio commissionato dalla Regione, meno dei 116 censiti nel 1989, anno in cui la Regione avviò una costosa campagna di ricognizione degli sversamenti illeciti. Il Presidente della Regione Abruzzo, che ieri ha incontrato i sindaci dei comuni che insistono lungo l'asta fluviale del Pescara, Scafa, Chieti, Rosciano, Cepagatti, Manopello, Alanno, Spoltore, Turri Valignani, Torre dei Passeri, Castiglione a Casaria e Pescara, ha sollecitato i comuni a farsi promotori di una ulteriore attività ricognitiva sulla presenza di infrastrutture deputate al ciclo delle acque e di manifestare eventuali carenze. Nel corso dell'incontro il Presidente D'Alfonso ha poi annunciato un giro di vite sugli scarichi abusivi e l'attivazione di una custodia visiva dei cantieri che saranno aperti a breve dalle società aggiudicatarie dei lavori di efficientamento di 15 depuratori, lavori appaltati da ACA grazie ad un finanziamento della Regione Abruzzo pari a 36 milioni di euro. Siamo alla cronaca giudiziaria. La Guardia di Finanza di Avezzano ha infatti denunciato a piede libero 117 persone al termine di un'inchiesta partita nell'ottobre del 2013 e volta a reprimere varie tipologie di frodi alle contribuzioni pubbliche nel settore agricolo. Inchiesta nata su specifici input informativi forniti dal nucleo speciale spesa pubblica e repressione frodi comunitarie della finanza. Sono emersi a seguito di capillari analisi dello specifico settore. Diverse sono apparse sin dall'inizio delle indagini le anomalie connesse alle modalità di presentazione di 142 differenti richieste di contributi da parte di persone operanti nel settore agricolo della Piana del Fucino. I controlli eseguiti hanno permesso di accertare le irregolarità ipotizzate e l'irrogazione di sanzioni amministrative per circa 250 mila euro. Le 117 persone denunciate devono rispondere delle ipotesi di reato di falsità ideologica in atto pubblico commessa da privato o di truffa e truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche. Il servizio è stato svolto sotto la direzione ed il coordinamento del procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Avezzano, Maurizio Maria Cerrato. Cambiamo pagina. Rifondazione comunista denuncia il taglio dei finanziamenti della regione per le borse lavoro dei pazienti psichici. Secondo Maurizio Acerbo, i danni causati dall'inattività dei pazienti costeranno alle casse regionali più dei tagli annunciati in questi giorni ai 300 pazienti. Allarme disabili psichici in Abruzzo, la notizia riguarda le borse lavoro introdotte dal 2000 nella nostra regione, finalizzate a occupare i pazienti presso enti pubblici con mansioni capaci di rendere la loro quotidianità perfettamente integrata nel sistema lavorativo. 300 persone, questo è il numero di borse finanziato dalla regione che di recente, tramite missiva, ha comunicato la loro interruzione. Le famiglie e i pazienti stanno ricevendo lettere dai servizi in cui gli si dice che quella esperienza non prosegue oltre una determinata data perché non è stata rifinanziata. Questo crea un'enorme agitazione nei pazienti e nei loro familiari perché significa mettere in discussione percorsi di riabilitazione che vedono proprio nella borsa lavoro l'esito diciamo conclusivo di reinserimento in un contesto sociale e quindi anche la possibilità di coronare un percorso che le persone fanno di battaglia nei confronti del disagio che vivono. Una grave mancanza da parte della regione, secondo Acerbo, che sottolinea come la cronicizzazione di tali pazienti potrebbe costare molto caro alla regione senza considerare l'importante valore umano dell'integrazione per persone che in assenza di stimoli esterni potrebbero vedere e riacuirsi la propria patologia. Probabilmente si sta procedendo in maniera ragionieristica non rendendosi conto che tutti coloro che andranno di nuovo in crisi si cronicizzeranno e andranno presso strutture e costeranno molto ma molto ma molto di più di una borsa lavoro. Quindi io invito la regione, la giunta, il commissario della sanità Ad'Alfonso, l'assessore della sanità, gli stessi consiglieri a attivarsi, anzi direi di più. In Abruzzo ci sono solo 300 borse lavoro per quel che mi risulta, mi sembra che siano molto poche, ci sono tanti pazienti che attendevano la possibilità di avere accesso alle borse lavoro. Siccome è un'esperienza che ha funzionato e su questo gli esperti sono tutti d'accordo, cerchiamo di implementarla. Noi parliamo di politica amministrativa perché le province di Pescara e Chieti sperimentano l'area vasta voluta dalla legge del Rio e mettono insieme i propri servizi. Al di là dei campanili il tentativo è quello di aggiornare il sistema province garantendo servizi migliori ai cittadini. Alfredo Primante. Un accordo di programma finalizzato allo svolgimento in forma associata di tutte le funzioni attribuite alle province di Chieti e Pescara. È quello firmato ieri nella sala del Consiglio Provinciale di Pescara durante la riunione congiunta dei Consigli Provinciali di Pescara e Chieti. Alla firma erano presenti i presidenti delle province Antonio Di Marco e Mario Pupillo assieme ad una nutrita rappresentanza di consiglieri e dirigenti dei due enti. Ma come si procederà da questo momento in poi? Lo ascoltiamo dalle parole dei due presidenti. Soprattutto metteremo insieme i nostri servizi e tra questi i primi che vorremmo istituire sono quelli dei servizi informatici attraverso anche un protocollo d'intesa che abbiamo firmato insieme all'ARIT che è la società regionale che gestisce i sistemi informatici. Quindi uniformare già il linguaggio nostro informatico è fondamentale e quindi questo potrebbe anche riverberare sui comuni sia dalla provincia di Chieti e di Pescara quando andremo a regime. E il resto poi andremo a valutare. Ovviamente ci sono le carenze nell'una e nell'altra provincia quindi di personale, di dirigenti e tutto questo serve per armonizzare e disegnare quell'area vasta che la legge del Rio ci suggerisce. Con Chieti e con Mario Pupillo in particolare abbiamo una condivisione di intenti molto accelerati tant'è vero che le nostre intenzioni sono anche quelle di poter arrivare anche se non subito, attendendo qualche mese per esempio ad avere un unico settore ed isa scolastica che possa gestire le due realtà territoriali, avere un unico settore che sia quello dell'ambiente come sapete il fiume Pescara abbraccia sia Chieti che Pescara ed è abbastanza sintomatico di un sistema che va superato. L'esempio di questa unione di servizi messo in campo da Chieti e Pescara è stato portato anche a livello nazionale all'attenzione del lupi, l'unione delle province italiane e del presidente del consiglio Matteo Renzi. Le province italiane sono pronte a definire esattamente cosa si intende per aree vaste e quindi noi vogliamo che siano i consigli provinciali a decidere le aree di competenza delle aree vaste e non invece l'imposizione che può arrivare dal governo o addirittura dalla regione. E ora andiamo all'Aquila, il segretario provinciale Umberto Trasatti esibisce i dati dell'Inps che attestano un meno 20% degli assegni per oltre 100.000 pensionati delle aree interne dell'Aquilano. Filippo Tronca. Umberto Trasatti, segretario provinciale della CGL, è l'Aquila. La CGL da mesi invoca l'apertura di un tavolo per riconoscere l'area interna dell'Aquilano che sono il 95% dell'area interna dell'intera regione come area di crisi. Oggi voi insistete anche sul fatto che c'è un altissimo tasso di pensionati che hanno le pensioni molto basse. Quali sono i numeri di questa ulteriore emergenza che quindi non riguarda solo lavoratori e cassi integrati? Il bilancio sociale dell'Inps presentato qualche mese fa ancora una volta ha certificato che nella provincia dell'Aquila abbiamo circa 100.000 pensionati con un livello di pensione media di 599 Euro, circa il 20% inferiore alla media regionale. Questo è un ulteriore dato che certifica in qualche modo le difficoltà delle aree interne e dentro il problema delle aree interne la provincia dell'Aquila rappresenta davvero oltre il 90%. Quindi abbiamo inteso con le altre organizzazioni sindacali avviare un confronto con le segreterie regionali CGL e Cisleguil per aprire un'avvertenza delle aree interne. Si sono chiesti i tavoli di confronto per affrontare in qualche modo i problemi legati alle aree di crisi. Ma qual è la risposta da parte della regione? La regione ha dato disponibilità ad avviare subito un confronto, si è iniziato con le aree di crisi e purtroppo i nostri territori vivono una condizione di crisi drammatica certificata anche qui da dati non solo di disoccupazione ma anche dell'utilizzo degli ammortizzatori sociali. Quali saranno gli effetti concreti per pensionati con la minima, per cassi integrati, per disoccupati con il riconoscimento di un'area di crisi, vantaggi concreti? Il problema è questo, che quando si parla di aree di crisi bisogna mettere in campo interventi non solo a sostenere le attività produttive e qui si sta facendo un ragionamento con la regione Abruzzo ma anche qua gli interventi necessari a garantire una qualità dei servizi efficace perché sono necessariamente lo strumento per evitare o per arrestare un lento ma inesorabile spopolamento delle aree interne. Andiamo avanti con il nostro telegiornale. Il Comune di Giulianova presenta, grazie alla collaborazione della Ecotedi, gestore unico dei rifiuti, il nuovo sito web e la nuova applicazione per smartphone. Il servizio di Elisa Leuzzo. Semplificazione e trasparenza soprattutto per la raccolta differenziata nel Comune di Giulianova. Assolutamente sì, quello che volevamo è che ci fossero dei servizi sempre maggiori, sempre più vicini ai cittadini, è importante informarli delle novità, è importante che ci siano delle alternative rispetto allo sportello Infopoint che rimarrà sempre aperto come lo è stato fino ad oggi per il contatto con i cittadini, per tutte quelle necessità che non sono risolvibili tramite un sito o tramite un'applicazione. Come funziona l'app? L'applicazione è molto semplice, è su piattaforma sia Android che iOS, riporta una schermata molto semplice con indicazioni dei calendari, indicazioni dello spazzamento, dove si fa lo spazzamento, in quale strade? È possibile vederlo. Con un'indicazione addirittura geotaggata sulle informazioni, cioè voglio segnalare un mancato ritiro, un rifiuto abbandonato o quant'altro, posso individuare le coordinate, semplicemente toccando un riquadro, indicare con una mail quelle che sono le segnalazioni ulteriori rispetto all'eventuale indicazione sull'applicazione e ovviamente dovrà essere poi individuato il soggetto che fa la segnalazione, quindi ci sarà una email attraverso la quale verrà inviata la segnalazione con l'applicazione. Si possono anche allegare fotografie, cioè non soltanto segnalo geotaggando il luogo dove c'è la circostanza non conforme, ma posso anche fare una fotografia ed inviarla. Questo a disposizione dei più smaliziati con la tecnologia, ma oramai lo siamo quasi tutti. Io debbo ringraziare per questo ulteriore servizio il gestore unico e quindi l'avvocato Ranalli che stamane insieme a noi, insieme all'assessore Ruffini, presenta questo nuovo servizio. Quello che noi ci eravamo impegnati di fare quando il primo aprile del 2015, non un'era geologica fa, ma meno di un anno fa, è entrato in servizio il gestore unico dei rifiuti. Questa collaborazione e sinergia con Ecotedi sta dando dei grandi risultati e questo solo ed esclusivamente è a vantaggio dei cittadini e di questo ringrazio la squadra che ci sta lavorando. E noi torniamo a Pescara per parlare della strada parco che torna al comune fino al 30 aprile lungo il tracciato della futura filovia, tanto contestata in passato, tornerà il mercato rionale. La tua società di trasporto unico locale ha riconsegnato ufficialmente al comune di Pescara la strada parco dove dovrebbe transitare in futuro un mezzo per il trasporto locale fino al prossimo 30 di aprile. Nel corso dell'incontro tenutosi a Palazzo di Città il sindaco Marco Alessandrini e il presidente della tua Luciano D'Amico hanno spiegato i termini dell'accordo. Poi sul progetto della eventuale filovia o comunque sul passaggio di un mezzo leggero nella strada parco il presidente della tua Luciano D'Amico ha dichiarato che si stanno facendo gli ultimi approfondimenti rispetto all'individuazione del mezzo che dovrà consentire a Pescara un sistema di trasporto pubblico locale ad alta capacità e ad alta efficienza. Il sindaco di Pescara Marco Alessandrini ha poi aggiunto che la strada parco tornerà ad ospitare come era in passato il mercato rionale fino al 30 aprile. Poi bisognerà verificare le condizioni dell'appalto dell'opera di trasporto pubblico che dovrebbe riprendere dal primo maggio e in caso negativo bisognerà valutare un'ipotesi di proroga della riconsegna delle aree. A margine dell'incontro il presidente della tua D'Amico ha detto che nella domenica ecologica ultima sono stati staccati con il biglietto unico a disposizione dei cittadini per l'intera giornata 1650 tagliandi. Noi cambiamo ancora pagina, parliamo di impiantistica turistica perché Marco Bacchion, presidente della Gran Sasso Terramano, società che gestisce gli impianti di prati di Tivo, al nostro microfono parla del risanamento dell'azienda e annuncia nuovi investimenti nella stazione cittica. Da quando ci siamo insediati abbiamo perseguito questo che era il problema vitale per la società, la sistemazione di un debito di oltre 12 milioni che siamo riusciti a riportare e a ridurre a soli 8 milioni. Quindi noi adesso abbiamo una società, restituiamo al territorio una società finanziariamente sana senza un euro di debito e con un patrimonio costituito dagli impianti di risalita che ammonta svariati milioni di euro. Abbiamo acquistato recentemente dalla ex sangritana Oggi Tua un tappeto mobile che verrà adibito a scuola, a campo scuola. È una richiesta pressante che noi abbiamo ricevuto dai maestri di sci e che permetterà anche l'utilizzo di un parco giochi anche l'estate. Noi intanto abbiamo assicurato per i prossimi 5 anni l'incasso di un canone per la gestione degli impianti. Stiamo perfezionando il contratto con il consorzio aggiudicatario. Questo ci permetterà di beneficiare di 170 mila euro, 150 più IVA, che comunque costituirà una base su cui poter contare anche per quelli che sono i futuri investimenti, ma soprattutto il ripiano del nostro bilancio ci permetterà di accedere al credito bancario. Noi parliamo ora di università, seconda giornata infatti dedicata alle donne protagoniste nei vari ambiti della società aquilana con un evento dedicato alle donne che si sono contraddistinte del campo della ricerca scientifica. Donne scienza, passato, presente e futuro. Questo è il titolo del secondo appuntamento di Prospettive Rose, l'iniziativa messa in campo dagli assessorati alla cultura, pari opportunità e politiche sociali del Comune dell'Aquila in vista della giornata internazionale della donna del 2016. Protagonista questa volta le donne di un'università che rose in un terzo del corpo docente per oltre il 50% delle iscritte. A indicare la via fiori agli occhiello dell'Ateneo a livello internazionale, donne che hanno raggiunto grandi risultati nel campo della ricerca scientifica. Ci sono tante donne in buone posizioni di responsabilità ma anche tante ricercatrici che hanno dei risultati assolutamente di rilievo nel campo internazionale, noi ne vedremo qui a questo tavolo qualcuna. Resta ancora tanto da fare. L'idea di oggi è capire come si può fare in modo che le giovani donne riescano a fare questa scelta in modo più libero e meno conflittuale di quanto in realtà poi alcune di noi, anche alcune di loro, delle più giovani hanno dovuto fare. La rettrice Paola Inverardi non dimentica poi di sottolineare l'importanza del welfare universitario per garantire in particolare alle donne pari opportunità nell'accesso agli studi. In campo molti progetti che stiamo anche cercando di discutere con il comune, con l'assessorato di Emanuela Di Giovanni Battista, delle pari opportunità e tipicamente sono quelli che uno si immagina, quindi l'idea di poter avere un asilo nido o un asilo vicino ai luoghi dell'università, in particolare quello che stiamo studiando ora è in prossimità dell'area di Coppito come prima cosa. Poi l'idea di, e su questo anche ci stiamo muovendo, di organizzare campi scuola. Uno dei problemi più sentiti dalle famiglie di chi lavora nell'università è quello della possibilità per i figli quando finiscono la scuola di trovare un luogo nel quale non solo giocare, passare tempo, ma anche crescere e su questo anche stiamo lavorando. Andiamo avanti con una notizia che è arrivata da poco in redazione perché la giunta regionale nella riunione di oggi, in considerazione della carenza idrico potabile dovuta al progressivo depoveramento delle portate sorgentizie nel comprensorio dei comuni del Terramano, ha approvato infatti la dichiarazione di emergenza idrica in provincia di Teramo con l'estensione delle fonti di approvvigionamento idrico di emergenza attraverso l'utilizzo di quelle aggiuntive del potabilizzatore di Montorio Alvomano. E noi restiamo nel Terramano a Milano dall'11 al 13 febbraio, i comuni di Campli, Civitella e Castelli faranno rete per la promozione territoriale, itinerari virtuali, degustazioni guidate, incontri allo stand che si propone come un museo diffuso. Elisa Leuzzo. I comuni di Campli, Castelli e Civitella fanno rete per la promozione territoriale e con il supporto del consorzio BIM di Teramo partecipano per la prima volta insieme a BIT 2016, la Borsa Internazionale del Turismo, in programma dall'11 al 13 febbraio a Milano. È un lungo discorso che iniziai l'anno scorso dicendo ai comuni di fare il sistema fra di loro, di fare le rete. Ho cercato di metterli d'accordo questi tre comuni e il BIM fa da capofila per questa manifestazione. Questo è l'inizio perché un altro anno giustamente invece di tre perché non sei, perché non nove, bisogna lavorarci. Il BIM è un valore aggiunto al territorio e questa ne è la dimostrazione. All'interno di una strategia promozionale comune che fa leva sul comprensorio, ciascun comune metterà in campo le proprie specificità per incantare i visitatori. Campli si presenterà come un museo diffuso tra cielo e terra, con i suoi percorsi dello spirito nell'anno del Giubileo, la Scala Santa, la Cattedrale di Santa Maria in Platea, il Cammino del Perdono. I principali monumenti e luoghi di interesse potranno essere visitati virtualmente grazie all'associazione AIQR Code. Civitella schiera la fortezza borbonica, il monumento più visitato da Abruzzo e il fascino del borgo fortificato attraverso le vicende di fanti e santi che vi hanno dimorato nei secoli. In particolare presenteremo a tutti gli avventori della BIT una novità importante, nel senso che sarà presentato il virtual tour della fortezza di Civitella, che è una bella chicca che presenteremo per la prima volta alla BIT, ma prossimamente lo porteremo agli onori della cronaca, insomma, a un po' di tutti. Castelli, patria della ceramica, si promuove con la sua grande tradizione artigianale attraverso un'esposizione di pregiate maioliche ed esclusive chicchele nello spazio espositivo. Quest'anno partecipiamo insieme a altre due eccellenze abruzzesi, quindi Civitella e Campli, uno spazio un po' più grande per poter esporre sia dei manufatti tipici di castelli, materie pubblicitarie, sono dei video, quindi diciamo castelli che ha tante eccellenze turistiche esporre sia culturali, ambientali e storiche, diciamo, è presente in questa mostra, in questa fiera che sia per operatori al settore ma anche per semplici avventori. Siamo allo sport al calcio per parlare del Pescara che prosegue la preparazione in vista dell'anticipo di venerdì sera alle 20.30 allo stadio Adriatico con il Vicenza dell'ex Pasquale Marino. Formazione in emergenza per il tecnico Massimodo che dovrà rinunciare fra squalifiche e infortuni a cinque giocatori, ma a tenere banco in queste ultime ore anche l'idea che è venuta al commissario tecnico della Nazionale Peruviana su una eventuale convocazione dell'attaccante biancazzurro Gianluca Lapadula che si è riservato qualche giorno di riflessione. Ma noi torniamo alla stretta attualità calcistica e andiamo in diretta al Poggio degli Ulivi dove si sta tenendo la conferenza stampa del tecnico biancazzurro Massimo Otto, ascoltiamo. I suoi limiti erano soprattutto in fase di non possesso palla. Ce l'è ancora? Però ci stiamo lavorando, se lui migliora quelle cose lì è un giocatore... Secondo me per caratteristiche non ci sono giocatori come lui, non le vedo punte come lui. Per qualità non dico che al momento è come le punte della Nazionale, ma per qualità può arrivare sicuramente ad ambire una maglia nazionale se continuerà questa crescita. In che senso aveva dei limiti in fase difensiva e detto di non possesso? Perché? Perché... No, ce li ha ancora. Perché... C'è troppo dispendio di energie? Lui a volte va a vuoto in occasione del gol preso da noi sul 2-2, il primo errore l'ha fatto lui e non se ne ha accorto nessuno. Perché noi stiamo sempre a vedere la difesa e pensiamo solo ad attaccare sempre i difensori per quando prendiamo gol. Però non si vede mai da dove parte l'azione. Allora, se voi andate a vedere prima le immagini vi renderete conto che il primo errore l'ha fatto lui. Però con questo... Cioè, voglio dire... Anzi, il primo l'ha fatto Memosciai, il secondo l'ha fatto lui. No, ma nessuna polemica. Assolutamente nessuna polemica. Ho detto che Margiotta era un buon giocatore di Serie B, la Padula potrebbe essere un grande giocatore di Serie A, c'è una differenza abissale. Quindi, sicuramente Margiotta non avrebbe mai potuto ambire la Nazionale Italiana, la Padula secondo me lo può fare. Per quello che ti dico, per lui, probabilmente per Margiotta è stata un'esperienza incredibile, un'opportunità incredibile perché ha avuto modo di giocare in un nazionale. Cosa che non avrebbe potuto fare per una Nazionale Italiana. La Padula, secondo me, lo può fare. Lo potrà fare se continuerà questa crescita costante. Quindi, laddove io vedo un'opportunità di giocare, di avere una chance, quantomeno per una Nazionale dell'importanza di quella italiana, oltretutto lui ha detto di sentirsi italiano, io aspetterei un attimino. E questa è la disamina del tecnico Oddo sul pareggio di Salerno. Noi parliamo ancora di Pescara, ma per una notizia che riguarda la tifoseria Biancazzurra, perché il questore di Ascoli Piceno ha adottato un provvedimento di divieto di accesso ai luoghi dove si svolgono le manifestazioni sportive. Un daspo di due anni nei confronti di un tifoso Biancazzurro che, secondo le risultanze investigative in occasione della gara Ascoli-Pescara che si era disputata l'11 ottobre scorso al Del Duca, una volta effettuato l'ingresso in Curva Nord riservata ai tifosi abruzzesi, si posizionava innanzi al tornello di accesso asservito al medesimo settore, tentando ripetutamente di sbloccarlo mediante attivazione del dispositivo manuale. Al fine di favorire l'ingresso di altri ultras pescaresi, resisi poco prima responsabili della forzatura delle operazioni di prefiltraggio durante le fasi in questione, il tifoso avrebbe anche minacciato verbalmente lo steward in servizio nel settore di Curva Nord. Ancora calcio, parliamo del Teramo che ha lavoro per preparare un doppio impegno giovedì in Coppa Italia, i ragazzi di Vivarini giocheranno a Siena e poi domenica ci sarà la gara di campionato con il Tutto Cuoio. Noi andiamo ad ascoltare l'attaccante della formazione aprutina, Petrella. All'inizio un bel magone allo stomaco, dopo piano piano ci siamo sciolti e poi è arrivata la partita e quando comincia la partita non pensi più a niente, pensi solo a fare bene. Chiaramente la classifica la vediamo spesso anche perché abbiamo passato un periodo difficile e i punti se ce li ridanno, questo non lo so, a noi fa solo piacere. Però comunque adesso la classifica è diversa, adesso la classifica dice che siamo a 5 punti sopra i play-out ed è quella la cosa più importante adesso come adesso. Sicuramente la forma fisica è una gran parte della buona riuscita di questa stagione perché ho avuto tanti problemi che non mi hanno mai fatto entrare in condizioni come volevo e che hanno frenato un pochino la mia crescita. Adesso comunque è un bel po' di tempo che non mi fermo per un lungo periodo e di conseguenza questo si vede in campo. Per il resto anche il minutaggio mi ha dato una mano perché quando giochi poco è difficile comunque trovare continuità e fare bene. Quest'anno sto giocando di più e sto trovando proprio questa continuità e anche i gol che fanno sempre piacere. Sinceramente non avendola mai fatta quindi non so proprio di cosa si parla. È chiaro che per un ragazzo di 22 anni è sempre un'opzione importante quella di salire di categoria, quella di crescere il prima possibile. Io ci ho messo un pochino di più anche perché ho avuto tanti problemi però quest'anno sto trovando continuità, i gol e sto anche facendo buone prestazioni quindi spero di arrivare in categorie superiori il prima possibile, se avrò la possibilità. E a proposito di Teramo vi invito questa sera a seguire il nostro appuntamento del martedì con Jacopo Forcella, Proteramo, una puntata quanto mai importante perché sarà ospite nei nostri studi l'ex direttore sportivo della società Biancorossa, Marcello Di Giuseppe. Parliamo ancora di Lega Proma dell'Aquila perché nella giornata di ieri sono tornati a correre i difensori Maccarrone e Di Mercurio fermi per infortunio da quasi un mese. Intanto sul fronte societario si è raffreddata la trattativa per la vendita delle quote ad un'accordata di imprenditori romani, Gianmarco Menga. L'Aquila di Perrone si prepara al secondo impegno consecutivo in casa in programma sabato contro la capolista Spal. Intanto arrivano buone notizie dall'infermeria, il centrale difensivo Giordano Maccarrone è tornato a correre dopo aver smaltito lo strappo muscolare di oltre tre settimane fa. Buone notizie arrivano anche sul conto del terzino siciliano Dennis Di Mercurio che da ieri ha iniziato a svolgere uno specifico lavoro atletico sul campo. Non si è invece allenato il difensore ex Pescara Emanuele Pesoli a causa di un attacco febbrile. Si è vociferato intanto sul fronte societario del possibile acquisto di quote dell'Aquila Calcio da parte di una cordata di imprenditori romani, tra cui l'ex vicepresidente del Martina Franca Enrico Folgori. Nella giornata di mercoledì scorso c'era stato anche un primo incontro interlocutorio a cui avevano partecipato i vertici rosso-blu e i rappresentanti della cordata. Nelle ultime ore però la trattativa sembra essersi arenata. Il club aquilano pagherà autonomamente la scadenza del 16 febbraio e ha intenzione di andare avanti senza l'aiuto di imprenditori di fuori. In compenso si proverà a coinvolgere maggiormente Eliseo Iannini, rientrato in autunno nel sodalizio aquilano come main sponsor. Intanto per quanto riguarda il processo sul calcio scommesso è stato formalmente presentato l'appello contro la decisione della Tribunale Nazionale Federale che la scorsa settimana ha inflitto 13 punti di penalità al club rosso-blu. L'Aquila sarà difesa dagli avvocati Flavia Tortorella e Carlo Celani, membro effettivo della Corte Federale della Federazione Golf. E con l'Aquila Calcio noi siamo giunti al termine della nostra prima edizione del TG6. Vi ricordo tra qualche minuto il TG6 L'Aquila e poi la seconda edizione del nostro telegiornale come sempre questa sera alle ore 19. Grazie per averci seguito e buon proseguimento di giornalata. Grazie per averci seguito e buon proseguimento di giornalata.